Ciao amici sono Lox, bentornati sui fatti e le opinioni di Lox, il canale per i veri malati di sport. Nel sole caraibico che illumina la mia postazione questa mattina, a quasi 30 gradi qui dalle parti milanesi, parliamo di Serie A. In questo video la sfida di ieri pomeriggio, Lecce contro Empoli. Un vero duello per la salvezza, vittoria 1-0 del Lecce, 3 per il Lecce, 3 punti fondamentali in questo inseguimento, in questa parte veramente molto emozionante della stagione, pochi turni alla fine e tantissime squadre coinvolte nella lotta per non retrocedere, in quello che comunque rimane un campionato di dubbio livello complessivo. Prima di tutto mi rilaccio velocemente a quello accaduto la scorsa settimana con Milan Lecce, mi avete scritto tanti messaggi, mi avete chiesto anche un'opinione su quanto accaduto poi in Frosinone Bologna, io ho seguito, come credo abbiate fatto anche voi OpenVar, con un po' di arrampicate sugli specchi da parte di Dino Tommasi nel giustificare il cartellino rosso a Kristovic, dove viene citata comunque anche una vigoria con la quale Kristovic abbia colpito il difensore del Milan, che io assolutamente non riesco a vedere in quell'azione, non si è capito bene il VAR, la ricostruzione, Valeri, giallo, rosso, boh, secondo me resta che il cartellino rosso non ci stava, quello di Sarai Makers era cartellino rosso a mio avviso perché il suo intervento era molto più pericoloso vicino alla testa di Bologna, non riesco davvero a capire come siano state prese queste decisioni e come possano essere anche avvallate successivamente. Peraltro il rosso di Kristovic priva la possibilità di avere le due punte, che come sapete sono la mia gioia assoluta in questa partita Lecce Empoli. In settimana abbiamo visto Real Madrid-Manchester City, un altro sport, ecco, lasciamo quel tipo di calcio a quel tipo di giocatori e ad un altro sport. Qui entriamo nel calcio ruspante vero di battaglia da Premier League di una volta, una partita questa Lecce Empoli che mi ha divertito tantissimo, proprio perché le squadre sono state pragmatiche, ho visto tanti lanci lunghi, ho visto lanci verso le punte, peccato che ci fosse una punta sola per squadra, Cerri nell'Empoli e Piccoli nel Lecce, peraltro Cerri uno dei miei giocatori preferiti, ovviamente per caratteristiche fisiche, per modo di giocare, le sue sponde aeree, è veramente un giocatore che adoro, anche nelle sue ultime esperienze nelle varie squadre mi è sempre piaciuto, pur non essendo un goleador da doppia cifra probabilmente. Però, bella partita, molto combattuta, molto viva, zero sofismi, zero costruzioni dal basso, zero retropassaggi pericolosi, calcio, calcio bello, vero, quello di una volta, non quello di Adani, non quello dei Parolai di oggi, bello, a me è piaciuto tantissimo tutto questo. Mi ero appuntato una cosa però, perché va bene non avere Christovic grazie a Massimi, però perché non le due punte, perché non provare un Pierotti vicino a Christovic come secondo terminale offensivo, mi sarebbe piaciuta questa soluzione da parte di Gotti, che ne ha scelte altre, il Lecce è stato sicuramente più propositivo e ha avuto molte più occasioni, sono lì le statistiche a dirci, l'Empoli di fatto non ha tir in porta, però nella prima mezz'ora l'Empoli è riuscito a essere più volte pericoloso, un gollo ha fatto con Cerri, sfruttando una gran giocata di cancellieri sulla fascia sinistra, rete poi però tolta, penso correttamente, perché a inizio azione il portiere Caprile aveva fatto l'unico errore forse della sua giornata, sorpreso un po' da un pallone che gli era arrivato lungo, lui era uscito ai limiti dell'area anche in maniera un po' folle, perché c'erano tantissimi difensori, compagni di squadra dell'Empoli che coprivano la situazione, Caprile nel prendere la palla esce dall'area, Mariani non se ne accorge dal campo, interviene poi il VAR nel riguardare il gol e il punto non viene concesso all'Empoli, poi l'Empoli ha ancora qualche chance, un paio di occasioni dove il cancedieri è pericoloso e poi un'azione susseguente a calcio d'angolo nel quale Falcone è molto bravo, molto reattivo. Dopo quello però cala un po' la notte da un punto di vista offensivo per l'Empoli che gioca una buona partita difensiva, mi spiace molto per Valuchiewicz che ha giocato a mio avviso una buona partita, ma poi sarà proprio il suo errore al minuto 89 a risultare decisivo per questa partita e spero per l'Empoli che non possa diventare poi ancora più pericoloso per quello che sarà l'esito finale di questa stagione. Come detto, nella ripresa penso Nicola sbagli i cambi, francamente sessantesimo minuto, toglie tre giocatori, da quel momento l'Empoli sparisce soprattutto il cambio di Cerri, Nian davanti un ectoplasma, non ha fatto assolutamente nulla se non un'occasione nella quale ha sorpreso Pongracic che è stato bravissimo poi a recuperare il pallone, però Mariani in giornata a mio avviso un po' ondivaga, gli ha fiscato contro un calcio di punizione a mio avviso che in quel caso non ci stava. L'Empoli sparisce mano a mano dal campo il Lecce di fatto costruisce le sue occasioni soprattutto su calci d'angolo su calci piazzati, non che dalla manovra vengano fuori tantissime occasioni c'è anche una circostanza nella quale vengono fuori tre calci d'angolo consecutivi su quali Caprile è molto bravo e il Lecce si rende molto pericoloso nascono però da, credo, un nettissimo falo di Dorgo su Caprile in uscita ma anche in questo caso Mariani lascia correre, Mariani che è protagonista di un arbitraggio, come vi ho detto, un po' ondivago e nel finale però penso sia giusta la sua decisione più importante ovvero in occasione del gol vittoria del Lecce è appena entrato Pierotti e la prima cosa che fa Pierotti è andare a combattere sul pallone, sorprendere Valuchievis che cade in terra 99% degli arbitri italiani fischiano questo genere di contatti che non sono quasi neanche contatti ma magari politicamente o altro da un punto di vista di gestione della gara è facile fischi il pallone in attacco e via Mariani in questo caso penso sia bravo perché non credo ci sia francamente farlo di Valuchievis l'azione nasce anche da una grande sponta di piccoli con Luperto, ecco lì magari c'è un po' una trattenuta di piccoli ma anche in quel caso il mio avviso è corretto non fischiare la rete penso sia del tutto valida e Pierotti dimostra anche questa volta giocando pochissimo però di poter essere un giocatore decisivo, importante e la sua giocata su Valuchievis va già lì a essere nella storia di questo campionato del Lecce come una delle azioni più importanti l'assist poi per Sansone che a porta vuota mette il pallone in rete c'è un po' di reazione finale dell'Empoli nel quale il Lecce però non corre grandi rischi e porta a casa questo successo importante in una gara, ripeto, gradevole, bella io da quando è arrivato Gotti devo dire la verità, sapete, ve l'ho già detto tante volte in questo momento il calcio francamente lo seguo è un amore da sempre per me, normale sarebbe mentire, negarlo ma il calcio di oggi non mi piace ve l'ho già detto tante volte, purtroppo però questo Lecce di Gotti veramente mi sta facendo riscoprire il piacere di vedere giocare a pallone io adoro anche un po' queste palle aeree che volano da una parte dall'altra piccoli, ha fatto un lavoro fantastico di sponda, di lotta, di combattimento mi piace, è una squadra in questo momento davvero rinata da una parte mi dispiace che si sia atteso così tanto per fare questo cambiamento visto il bene che ha portato alla squadra dall'altra però bene così perché per come stanno andando le cose tutto giusto Lecce ora 13esimo con 32 punti 6 punti di vantaggio sulla linea oggi sia Frosinone che Sassuolo hanno due partite complesse il Frosinone a Napoli il Sassuolo ospita il Milan quindi due gare tutt'altro che facili L'Empoli è 16esimo con 28 punti ne ha ancora due di vantaggio sulla linea settimana prossima però lo attende il Napoli certo il Napoli di questi tempi è una squadra in grado di fare del bene come del male non sarà una partita facile L'Empoli mi piace devo dire gioca bene Nicola è un ottimo adenatore al di là del fatto che ieri trovo non abbia azzecato le sostituzioni non sia stato perfetto nelle sostituzioni però è una squadra che mi piace molto e che spero riesca a salvarsi un po' questa colonia polacca e di ex giocatori dello Spezia anche perché poi molti giocatori dell'Empoli di quest'anno hanno militato nello Spezia il Lecce invece è atteso a quello che è una sorta di alla spallata Sassuolo-Lecce l'occasionissima di vincere e di dare prima di tutto a se stessi un grande passo in avanti verso la salvezza poi perché no all'aiutare il Sassuolo a lasciare la Serie A vedremo questa partita settimana prossima molto molto interessante vado con le mie pagelle poi attendo i vostri commenti 6,5 a Falcone 6,5 a Gendrè 7 a Pongracic 6,5 a Baschirotto 7 a Gallo primo tempo bene secondo tempo benissimo 6,5 a Blen molto bene il suo lavoro di raccordo a centro campo partitona di Ramadani un Ramadani quasi alla Yulman 7 per lui 5 a Anquismale anche il cartellino giallo non una bella giornata per lui 6,5 a Uden belle giocate belle idee poco continuo ma una buona partita per lui 6 ad Orgu che comunque devo dirvi lì davanti mi convince giusto lo trovavo meglio tipo in un ruolo nel 4-4-2 a centro campo piuttosto che in questi altri moduli che stiamo vedendo nel Lecce e 7 al Fantastico Piccoli dei subentrati 6,5 a Sansone è importante il gol Gonzales è venuti non valutabili Pierotti ragazzi decisivo 8 per lui il voto anche se ovviamente è un 8 diciamo pompato ha aggiunto un pallone però quello decisivo perfetto 7 comunque alla fine anche per Gotti per l'Empoli 7 a Caprile gran portiere lo ricordavo lo scorso anno e mi ha fatto molto piacere rivederlo 6 a Beresinski 5 purtroppo a Valuchiewicz e mezzo a Luperto 6 a Giasi 6 a Marin 6 a Bastoni e 6 a Lex Pezzella 5 a Zurkowski 6 a Cancellieri con delle belle giocate delle belle accelerazioni 7 a Cerri 4,5 a Niang 5,5 a Cambiaghi 6 a Malè 5,5 a Nicola per Mariani 33 falli 1 a Monito ve ne ho già parlato il voto per lui è 5,5 grazie ragazzi iscrivetevi al canale fatemi sapere cosa ne pensate di questa partita ancora poi altro calcio con la Serie B la pallacanestro il rugby e tutti gli altri appuntamenti di questi weekend sempre molto molto pieni e complicati ciao a tutti alla prossima e un bacio da Lox